Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Nel video di oggi vi dirò quali giochi coprirò maggiormente nel mese di agosto, dove di solito ci sono poche uscite interessanti, in questo mese invece di agosto ci sono alcune uscite decisamente interessanti, anche giochi molto importanti, anche giochi molto attesi da tanto tempo. Non sono poi così tanti, però sono significativi. Uno dei giochi più importanti ovviamente è Concorde. No, no, non è Concorde, che non giocherà nessuno. Potete vedere questo video se non avete visto questo video e volete sapere le mie opinioni su Concorde. In realtà ragazzi no. I giochi più interessanti, diciamo più nazional popolare, probabilmente saranno Black Meat Wukong e Star Wars Outlaws. Però questi arrivano alla fine del mese. Prima c'è altro, prima c'è altro. Per esempio, soprattutto per chi segue questo canale, magari è anche un giocatore di Diablo 4, c'è la quinta stagione di Diablo 4, ok? Una stagione un po' interlocutoria, probabilmente, perché durerà solamente due mesi. Inizierà il 6 agosto e appunto durerà solo due mesi perché poi ci sarà la stagione molto più interessante, probabilmente quella con la quale insieme uscirà l'espansione di Diablo 4. Comunque, su Diablo 4 darò un piccolo sguardo. Non sono molto interessato in realtà a questa stagione, però un pochino ci giocherò e seguirò anche il Campfire del primo agosto, dove appunto spiegheranno tutte le cose nuove come sarà appunto questa quinta stagione di Diablo 4. Non ci starà moltissimo, però qualcosa di contenuti lo troverete. Perché non mi interessa più di tanto questa Diablo 4 stagione? Uno dei motivi è appunto perché è un po' interlocutoria e quindi siamo più in preparazione per quello che succederà poi a ottobre. E l'altro motivo, almeno personalmente, perché mi interessa molto di più, l'alpha di Delta Force Hawk Ops. Vi ho fatto un solo video su questo gioco, che è appunto ancora in alpha, però mi interessa parecchio perché è un mix tra Battlefield e COD con molte cose copiate, proprio molte cose copiate da Battlefield, però sembra essere figo. Ci sarà questa alpha, che non è open, però secondo me sarà abbastanza open, nel senso che chiunque vorrà partecipare facilmente potrà partecipare. Se volete vedete anche quest'altro video che ho fatto qualche giorno fa e potrebbe essere un FPS molto interessante di un team di sviluppo ticinese. Ancora siamo in alpha, però ha del potenziale, quindi questo pure esce se è agosto comunque. Quindi diciamo che per la prima metà di agosto, più o meno, se non ci sono colpi di scena, dovrei giocare più che altro questo e Diablo 4. Dopodiché arriviamo in realtà al 20 di agosto, verso fine mese, e abbiamo Black Meat Wukong, ok? Di questo penso che conosciate, perché si è parlato per anni e anni e anni, molto hypato come gioco, sempre cinese, ragazzi, la Cina da non sottovalutare per niente. Non è un Souls-like in realtà, sarà un action in realtà, un action, è molto incentrato sulle boss fight, quasi, sembra, per come l'hanno spiegato, una sorta di quasi boss fight rush, cioè le parti di interlaccio tra una boss fight e l'altra in realtà saranno abbastanza anche diritte, senza chissà quale open map, e quindi molto incentrato sui combattimenti spettacolari. Questo ha un grosso potenziale, in realtà sono usciti milioni di gameplay, proprio tantissimi gameplay su questo videogioco, per chi ha voluto seguirlo, ne avrà visti anche film troppi forse, però potrebbe essere molto interessante, molto figo. Inoltre, non vorrei sbagliarmi, ma dovrebbe essere sul Game Pass incluso, quindi anche gratis, per chi ha il Game Pass, tra virgolette. Quindi sicuramente Black Meat Wukong lo gioco al lancio, al 20 di agosto, e avrete qualche contenuto certamente, e spero sia figo. I cinesi, tecnicamente, sanno fare i videogiochi, magari a volte non sono molto ispirati, però a volte escono dei giochi molto fighi. Dopodiché, il 30 agosto, neanche troppo dopo, e poi settembre è un mese allucinante, però il 30 agosto c'è Star Wars Outlaws. Di questo sono uscite le anteprime veramente pochi minuti fa, e ho visto un po' di opinioni così molto velocemente. sembra comunque ok come gioco, anche se ci sono perplessità su intelligenza artificiale, sullo shooting, sull'open world, ci sono un po' di perplessità, però come gioco di Star Wars sembra molto figo a livello di immedesimazione, quindi secondo me, banalmente, ai fan di Star Wars potrebbe piacere, diciamo, di più rispetto ad altri. Chi invece cerca solamente un gioco d'azione open world, forse, forse ci sono un po' di criticità, potrebbe rimanere deluso, comunque sono curioso, eventualmente farò il solito trick, il solito trick del un mese di Ubisoft Plus, quindi me ne esco con 17 euro, e comunque voglio provarlo, perché comunque a me piace Star Wars, quindi sono da quella parte che potrebbe piacermi più del dovuto solo perché Star Wars come ambientazione. Poi, ovviamente, si valuterà in maniera critica poi tutte le varie sue parti di storia, gameplay, open world, meccaniche, tutto quanto. Per uno sguardo lo vorrei dare a Star Wars Outlaws, perché comunque è un gioco Ubisoft di quelli molto di peso di quest'anno e sarà sicuramente molto di interesse, insomma, di tanti. E siamo insomma al 30 agosto e il mese è finito, quindi in realtà mi interessano quattro giochi, praticamente, se non ci sono cose particolari, solamente quattro giochi, però c'è roba di peso, perché Black Meets 2 Kong è di peso, Star Wars Outlaws comunque sarà di peso, Diablo 4 comunque è, diciamo, evergreen ormai, e l'Alpha di Delta Force, secondo me, farà il botto, me la dico così, mia prevision, farà il botto, anche in Italia, secondo me molti ci giocheranno e piacerà a molti, questa è la mia sensazione, poi speriamo bene, non ci ho mai giocato, poi magari verrò deluso, però a occhio, per quello che ho visto, potrebbe fare il botto. Insomma, questo sarà il mio agosto, cercherò di mantenere un certo livello di contenuti, anche se c'è un caldo della madonna, come forse avete notato, ho un po' rallentato, d'estate è un po' rallento, faccio meno video, perché oggettivamente è difficile registrare i video, proprio il mio cervello va molto molto più lento del solito. Poi ovviamente arriverà a settembre e sarà la morte, perché a settembre esce di tutto e di più e tutte le cose che escono a settembre io le voglio giocare e anche fare contenuti, quindi pregate per me per settembre. Va bene ragazzi, detto questo, fatemi sapere anche voi cosa vi interessa in questo agosto e soprattutto se giocherete a qualcosa ad agosto, perché magari ad agosto anche voi volete staccare la spina o c'è troppo caldo per videogiocare o tutto quello che volete. Comunque, ditemi nei commenti cosa vi interessa di agosto a livello videoludico oppure se farete altro. Noi comunque ci becchiamo prossimamente per altri video qua sempre sul gaming, grazie per l'attenzione e per il supporto sempre, statemi sempre bene e ciao ciao!